Benvenuti a Dietro le Quinte. In questa puntata la banda Osiris in Le Dolenti Note. Rassegna ad Libitum un appuntamento e postteatro. Ad Libitum, Noti Dolenti, siamo qui con la banda Osiris. Allora che cosa accolteremo questa sera innanzitutto? Questa sera racconteremo tante cose legate al mondo della musica e dei musicisti. La condizione del musicista in Italia, che non è delle più rose, noi ci scherziamo sopra con la musica, con giochi di parole, così però la condizione resta quella, insomma, tanto vale riderci sopra. E' vero che voi fate musica classica, ma anche musica da balcone, così che la chiamate, un po' di tutto. Come si lavora in questo senso? Basta avere i luoghi adatti. Musica da balcone, abbiamo la musica da camera, quella la fanno un po' tutti, la musica da tinello, che è un po' molto particolare. La musica da cameretta, anche la musica da cameretta. Esatto. Poi abbiamo la musica da sala da ballo, ma quella la usiamo solamente quando faremo il liscio, quando saremo ancora un po' più vecchi. Adesso parliamo di come voi avete impostato il teatro facendo musica, perché il vostro spettacolo è poliedrico, no? Cioè, si racconta, si ascolta bella musica. Qual è il segreto? Non esiste un segreto, ma nel senso che non lo sappiamo neanche noi. Ogni volta che facciamo uno spettacolo è un modo di approcciarsi in maniera abbastanza differente. Quindi ogni spettacolo ha un suo modo per riuscire a tirare fuori quello che è il teatro e con la musica. La cosa più importante è quella di mescolare il più possibile, di sorprendere, ma di sorprendere anche noi soprattutto, delle sciocchezze e dei legami che ci possono essere tra la musica classica e la parola, magari tra un modo anche molto fisico e il modo in particolare degli strumenti, che come al solito e sempre, questo può essere forse il segreto o comunque il marchio di fabbrica, che gli strumenti vengono usati spesso come maschere, come oggetti e non soltanto come strumenti. Prendendo spunto dall'omonimo libro, la banda Osiris trasforma le pagine di carta in un libro illustrato in 3D. Un viaggio musical-teatrale e confini della realtà, una girandola senza sosta di gag musicali. Un libro alla rovescia, un inno all'amore per la musica, travestito da manuale per evitare i musicisti e il loro gramo mestiere. Un antidoto contro le false speranze dei musicisti fai-da-te. I protagonisti si divertono con ironia, ha allergie provocatori consigli, dal perché è meglio evitare di diventare musicisti, a come dissuadere i bambini ad avvicinarsi alla musica, da quali siano gli strumenti musicali da non suonare, a come eliminare i musicisti più insopportabili. Un marchio di successo, poi magari da voi avete aperto una porta nella musica, nel modo di fare musica. Com'è cambiato dagli esordi il vostro gruppo ad adesso? È cambiato con l'età, diciamo che ci siamo invecchiati. Soprattutto però abbiamo cercato sempre di adattarci un po' a quello che succedeva nel tempo. All'inizio, usando la tecnologia, c'erano le prime batterie elettroniche, allora cercavamo di usare sempre, cercando di usare quelle che erano i nuovi linguaggi in modo divertente. Cosa che adesso forse non riusciamo più tanto a fare, ad adeguarci ai linguaggi moderni, perché sono troppo veloci a cambiare e noi non fai tempo a fare una gag che magari è già passata di moda. Ma soprattutto abbiamo provato ultimamente anche con l'intelligenza artificiale, ma la nostra intelligenza è superiore a quella artificiale, quindi abbiamo detto... Ce lo dite, un pregio del vostro compagno di viaggio musicale, di ognuno di voi. Perché vi siete scelti? Un pregio dell'altro? Allora, quello che manca, il quarto elemento, il pregio è che è sempre in ritardo. Però sappiamo di far conto sul fatto che lui è in ritardo, sappiamo che arriverà, comunque arriverà. Si materializza, non è che arriva, si materializza all'improvviso così come si smaterializza. A un certo punto dici, porca miseria, mancano tre minuti all'ospedale, lui, taff, compare, serafico e felice. E questo è un pregio che compaia, che scompaia. Invece, pregi musicali? Perché è difficile che un gruppo funzioni con un'alchimia perfetta come la vostra. Quali sono i pregi musicali? Forse perché sappiamo i nostri limiti. Noi non siamo dei musicisti eccelsi, nessuno di noi è diplomato in conservatorio, abbiamo dei limiti musicali, lo sappiamo, e quindi ci costruiamo le cose su quei limiti. E quello è importante, insomma, sapere un po' fin dove puoi arrivare a fare una cosa. È inutile dire, ah, sono il più grande musicista del mondo e poi magari non lo sei. Ecco, sono il Mozart, come dice il professore, è inutile pensare di essere un Mozart. Se poi dovrei morire a 35 anni. Qual è il pezzo più difficile di difficile esecuzione di questa sera? C'è qualcosa che magari vi preoccupa a volte, no? Qual è? Allora, c'è una cosa molto fisica che facciamo sulla canzone di Lucio Dalla, l'anno che verrà. È presentata come fosse una lettera e ci sono tutti i segni di interpunzione che vengono chiamati. Noi lo facciamo, da una parte c'è Gianluigi che canta, dall'altra c'è il professor Macri che invece fa il basutuba e diventa praticamente la cornice. E noi scriviamo la lettera con i tromboni, è come se dipingessimo, scrivessimo su una pagina immaginaria. A un certo punto, tra i vari segni, tutte le varie cose che ci sono, c'è anche il corsivo. E questa è una cosa fisicamente che è proprio, il corsivo è così, perché se il minuscolo scendiamo in basso e poi dopo il maiuscolo alziamo i tromboni, il corsivo è questa cosa qua ed è veramente terribile. Il corsivo Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico E come sono scontento Di essere qui in questo momento Vedi, 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 vedi Vedi caro amico, cosa bisogna inventare Per poter riderci sopra Per continuare a sperare Basta così Racconti fulminanti e letali e lenti di terribili difetti dei musicisti Aforismi, aneddoti, annunci, sui giornali, la posta della banda, citazioni dotte, mescolate, frullate Inabilità mimica e musicale La summa della musica dopo 43 anni di carriera Attraversando musica composta e scomposta Musica da camera e da balcone Ce lo raccontate un dietro le quinte Noi siamo dietro le quinte E' successo magari qualcosa di carino O di particolare durante i vostri spettacoli Che succede se succede qualcosa che non dovrebbe succedere? Si improvvisa sulla scena? Praticamente iniziava lo spettacolo Entravamo uno per volta suonando il proprio strumento Io devo entrare cantando E poi entrava quello che manca Con la chitarra Praticamente entra facendo questo zompo, questo salto In scena E la chitarra non andava proprio nulla Per cui lui con nonchalance Prende, esce e se ne va Chiudiamo il sipario Riapriamo il sipario Abbiamo ricominciato esattamente dal punto dove c'eravano fermati La gente ha sempre pensato che fosse una cosa voluta Però noi abbiamo reagito senza Che accorgio anche a Fantastico Quando siamo andati da Enrico Montesano anni indietro Stiamo parlando Anche lì dove entra la formazione elettrica Facciamo un pezzo coi fiati Poi entrava, cambiavamo gli strumenti al volo E lì il basso Lui si vede lui Ancora il video c'è Si vede lui che esce col basso E ritorna con il trombone di nuovo Cioè dovrebbe andare a prendere il basso Esce ma non lo trova il basso Cioè non funziona Quindi ritorna col trombone Noi lo guardiamo E tranquillamente continuiamo a sonare i fiati Saltando la parte elettrica del pezzo Quindi cose così succedono E si cerca sempre di rimediare La nostra provenienza è teatro di strada Quindi quando tu incominci I primi tre anni, quattro anni Abbiamo iniziato facendo questo Quando lavori in strada ti può capitare di tutto Quindi siamo molto preparati A qualsiasi tipo di incidente può succedere Da un cane che mi ha zannato in Germania Mentre stavo suonando Quindi mi hanno portato all'ospedale E ho dovuto pagare io le spese Oltretutto loro due che sono stati arrestati a Roma Perché per una cosa fatta per il municipio di Roma Mai non avevano avvisato i vigili urbani I vigili urbani ci hanno portato due persone Loro due direttamente con il pubblico Che cercava di frenare Come è cambiata la musica invece in televisione? Qui siamo spettacolo live Quindi è diverso C'è profumo di polcoscenico Che cosa ne pensate adesso Della musica che c'è ora in televisione? È cambiato il modo di fare musica in tv? Di fare musica non lo so Perché quando c'è per esempio Un'orchestra che suona per uno spettacolo La musica è il modo è quello Non è cambiato Linguaggi nuovi non ne vedo Non diciamo non ne vediamo Forse è l'unico il programma di Bollani Che fa qualcosa di un po' di differente Ma c'è spazio per della musica buona in tv? Come siamo messi con i palinsesti? Con le scelte? Non saprei dire Non è che la guardo moltissimo Ci sono, diciamo, divise in due fasce C'è i contest che sono X Factor Quelle cose lì Che sono una cosa del genere E comunque va bene Ci sono C'è danno spazio magari a qualcuno di nuovo Che viene fuori E altro C'è proprio poco Se non i canali tematici Magari sono canali tematici Però è chiaro che sono una nicchia Non è che lo farei mai Diventare una cosa per un grosso pubblico Come magari una volta succedeva A Studio 1 O programmi ancora più Non così andando indietro In cui succedeva qualcosa sempre C'era qualche ospite strano Che faceva qualcosa di divertente E apriva mondi musicali nuovi Adesso mi sembra un bel po' più difficile Sì, in effetti Non stavo riflettendo Mentre facevi la domanda Io mi ricordo da piccolo Che anche quando si vedevano Che programmi televisivi di un certo tipo Si vedeva anche l'ospite straniero Che veniva e faceva delle cose particolari Adesso se io sto pensando A ospiti stranieri Che vengono a fare delle cose Che non siano Partecipano allo show Non solamente cantano Mentre gli ospiti stranieri Solitamente facevano altre cose Adesso non ne vedo più Se dovesse fare Con Stefano forse Ma Stefano è proprio È proprio una cosa molto particolare E poi comunque Voglio dire Bellissima trasmissione Tutto quanto Ma comunque nicchia Perché poi sono 300, 400 mila 500 mila spettatori Dai Beatles a Tchaikovsky La banda Osiris Tratteggia il ritratto impietoso Della figura del musicista Tra le risate Si recepisce Il vero messaggio in agrodolce La musica può riempirti la vita Ma va coltivata Con rigore Creatività E passione E non dà assicurazioni Contro la frustazione Un meccanismo perfetto Un risultato certo Una macchina da guerra Della futura Rivoluzione musicale Se dovesse fare voi Un programma vostro adesso In televisione Che titolo diamo? Che cosa fa? La banda Osiris La banda Osiris fa So la musica Ridere mi fa Che è un programma Che abbiamo pensato Mai Ma l'abbiamo proposto E tantissimi anni fa Quando ancora Non si parlava di queste cose Soprattutto con la musica dal vivo Con un sacco di ospiti Però noi volevamo farlo in pellicola Perché allora Stiamo parlando degli anni 85, 90 forse Ed era un momento in cui La musica in televisione Era trattata molto male Perché c'era tutta musica La maggior parte Era tutto playback Violento proprio Proprio senza ritegno E allora l'idea era Di fare questa cosa Noi ci eravamo fissati A volerlo fare in pellicola E alla fine Non ce l'ha accettato Nessuno Tre belle ragazze E noi ci siamo diti Ma perché Probabilmente che mostrano Un po' di cosce E altre cose Allora la trasmissione La facciamo E noi abbiamo detto Ma perché tre siamo in quattro Almeno dateci una testa Ecco il livello Era un po' questo Quindi la trasmissione Invece oggi Che cosa vi piacerebbe fare? Avevamo in mente Di fare un documentario Sulle bande Sulle bande musicali Un viaggio in Italia Che parte dal nord Arrivi al sud Attraverso le bande musicali Che sono una realtà Che è sempre viva Ed è un modo Didattico Di affrontare la musica Che viene snobbato Mentre è un luogo Dove si possono incontrare Giovani, anziani Gentili di varie etnie diverse Insomma In cui si può lavorare Senza barriere musicali Puoi fare qualsiasi genere E forse anche quella Di un'area protetta Che però non viene considerata Non gli viene dato spazio E pensare di fare Un documentario Un varietà Diciamo una cosa divertente Sulle bande musicali Viaggiando per l'Italia Poteva essere una cosa divertente Sì anche perché Poi è una fucina Di giovani musicisti Ma musicisti Nel senso che Suonano uno strumento musicale Adesso molti giovani Si va più sul computer Sui mezzi di altro tipo Per imparare A suonare uno strumento Mentre invece la banda È sempre stato Ed è stato anche Il bacino Per il conservatorio Molti provengono Prima fanno quello Suonano in banda E poi capiscono Che fare il musicista Magari è il loro ideale Le loro cose Quindi poi passeranno Al conservatorio Grazie mille Per essere stati con noi Adesso un saluto Al pubblico di Dietro le Quinte Ciao E con questo è tutto Per rivedere tutte le puntate www.dietrolequinte.tv.com E per le vostre segnalazioni Info chiocciola Dietrolequinte.tv.com Arrivederci Alla prossima puntata Alla prossima puntata Alla prossima puntata